Buonasera e bentrovati nella sala stampa del Palamangano, nella beta di Cambi Arena Palamangano, ultima giornata a casalinga della Genova Scafani, terminata con il conteggio di 74-99. Con la vittoria del Banco di Sardegna Sassari. A parlare di questa partita, il coach ospite Marcovic, ringraziamo il dirigente Jack De Vecchi per la traduzione. Buonasera a tutti i Sardegni, grazie a tutti i Sardegni. Siamo arrivati a scoprire il gioco, abbiamo aperto il gioco buono, abbiamo già avuto da l'inizio, abbiamo già avuto da l'inizio, abbiamo avuto da l'inizio, è stato solo una domanda di esigenza, non la seconda parte, non è niente da parlare di un altro aspecto di tactica. Per prima cosa complimenti a Scafani per la stagione, poi niente per quanto riguarda la partita, siamo partiti bene, giocando bene trovando subito un attacco fluido e dopo nel secondo tempo si trattava solo di gestire e giocare nella nostra pallacanestro e non ha niente da aggiungere per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Ci sono domande? Grazie coach. Grazie. Grazie a tutti.